Bella raga, sono Jack9728 in questo video di Call of Duty Black Ops Deathmatch a squadra su Fire Emblem Questo video è in live Quindi non so come andrà, sarà una partita schifosa, una partita perfetta? Boh, non si sa Allora, vi posso dire intanto che questa partita non so se va tanto bene, non so neanche se va tanto male Perché la K47 silenziata è la prima volta che me la metto Quindi non mi ci sono abituata ancora tanto bene Poi ho uno joystick Quindi è ancora peggio Però speriamo un pochino vada questa partita Ma c'è una bellissima doppia Grande ragazzi Poi vi volevo dire che nei prossimi video Ci sarà qualche gameplay anche dal 27 settembre Ci sarà qualche gameplay di Battlefield 3, la beta Perché dal 27 settembre e non dal 29 novembre? Beh, esattamente perché io mi sono comprata la limited edition di Medal of Honor E quindi ho la beta prima di tutti gli altri giocatori Io non ce la sono facciata Questa è una bella gran tazza In quel punto Che gli serve forse sempre tutti Ecco appunto Andiamo in giro La 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 E se escono di vedere qua Aereo spia nemico in arrivo Stiamo perdendo? Stiamo perdendo? Non ho già Pareggio Bella raga Cioè bella raga, ciao Sbaglio il giornale Poi volevo dire che fra poco farò anche qualche gameplay di Battlefield 3 Cioè di Resistance 3 Perché ho fatto l'unboxing E devo dire che Resistance 3 è il primo del gioco E ci voglio fare con Battlefield 3 Vabbè sto zitto così Magari vi faccio un favore Ciao ciao raga Aereo spia nemico sopra di voi Stiamo vincendo? Stiamo perdendo? Aereo spia nemico sopra di voi Cobra in avvicinamento Approvigionamenti alleati in arrivo Aereo spia alleato in arrivo Stiamo vincendo? Il nostro SR-71 in volo Il nemico disturba il nostro radar Va fuori Approvigionamenti alleati in arrivo Il nostro aereo spia in volo Il nostro aereo spia in volo E' blanco caio Ah scusate ancora vi ridistro Di solito io facevo partite a training Questa partita è vera Non è a training Aereo spia nemico sopra di voi Aereo spia pronto Stringete i cammini A scubblica non è contemplata Aereo spia pronto al ricollo Aereo spia alleato in arrivo Secondo me i silenziatori Non so perché Ma secondo me è così Che i proiettili arrivano leggermente dopo Di quello che dovrebbero arrivare Io noto sempre questa cosa E quando spargo la FAMAS Non silenziata E li becco dopo Vabbè Ciao ciao Iscrivetevi e commentate Già che è 97 delle 8 Ciao